Non c'è un exit strategy, purtroppo la situazione rispetto a qualche mese fa invece che migliorare peggiora. La via di approdo, una soluzione, si allontana. Credo che ormai tutti capiscono che bisogna trovare un exit strategy. Questo è un lavoro anche politico molto delicato perché c'è uno stato di incomunicabilità tra l'opposizione con cui noi siamo pienamente solidari e il regime. Però a questo punto bisogna trovare una via di uscita perché il popolo soffre, milioni di venezuelani continuano ad espatriare, questo destabilizza anche i paesi vicini. C'è una situazione veramente molto complicata.